Una delegazione Spalatino-Dalmata in visita oggi in Abruzzo a Pescara, ma non solo, per avvicinare ancora di più le due sponde dell'Adriatico. Luciano Monticelli, un'occasione importante per la nostra regione e per le imprese della nostra regione? È importante nell'ordine per quanto riguarda la macro-regione Adriatico-Ionica. Sono città in cui noi abbiamo a che fare quotidianamente, diciamo, sia all'interno della macro-regione, ma le tante attività, basti ricordare che anche se interrotte da alcuni anni fa, però il tratto di mare che costeggia viene anche preso nelle attività quotidiane per quanto riguarda il trasporto di queste due realtà che sono fondamentali. Ma la regione Abruzzo si pone in un quadro più ampio appunto di macro-regione. Bisogna anche ricordare che da ultimo la Croazia è all'interno del pacchetto Unione Europea e quindi questi rapporti vengono rafforzati e governati anche in maniera forte dal nostro Presidente che è nel gruppo della macro-regione Adriatico-Ionica che rappresenta anche la figura di Vicepresidente. Quindi questi rafforzi vengono fatti, questi rafforzamenti per le attività commerciali, per le attività imprenditoriali, per la politica sana e giusta di quella che noi in Unione Europea dobbiamo continuare a batterci. C'è intorno un mondo della Croazia, anche un mondo in attesa di poter partecipare alla programmazione dell'Unione Europea che è costruita anche dall'IPA. In questi anni ci stanno lavorando, la regione Abruzzo è stata autorità di gestione di quanto riguarda per molti fondi dell'Unione Europea. Quindi è un processo che va avanti e speriamo di continuare nel segno del senso del rispetto ma anche di collaborazione. Io vorrei ricordare che queste cose vengono fatte anche in un rapporto umano, rapporti di pace che si possono avere tra le varie sponde. È necessario implementarli sempre di più.